Ben tornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. Le condizioni meteorologiche a livello mediterraneo rimangono stabili. Per quanto riguarda l'inizio di questa penultima settimana di marzo, nonché portatrice della primavera astronomica, su tutta l'Italia il tempo rimarrà stabile ma con la tendenza al peggioramento verso il fine settimana. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 21 marzo. Bel tempo al mattino sulla Puglia e sulla Basilicata, possibili banchi di nebbia nelle zone interne alle prime ore del mattino. Durante il resto della giornata, tempo stabile su entrambe le regioni, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Le temperature, come notiamo dalla grafica, risulteranno stazionarie e oltre le medie del periodo. Venti deboli meridionali con rinforzi nelle ore centrale, mari da calmi a poco mossi, nelle ore centrali della giornata. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Dario Barnaba, che ci regala questo magnifico scatto della murgia barese fiorita in pieno stile primaverile. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per la visione!